www.feyyaz.tv Abbiamo iniziato a registrare circa due anni fa Siamo partiti prima di registrare a fare canzoni, ne abbiamo fatte veramente tantissime Dopodiché abbiamo detto cosa registriamo Abbiamo detto che registriamo le un po' tutte Così vediamo per la fine, scegliamo i migliori E poi ne abbiamo riusciti a registrare una trentina E poi ne abbiamo scelte praticamente tutte Perché ci eravamo affezionati quasi a tutte Anche quelle che abbiamo lasciato fuori Un po' mi dispiace Però così funzionava Il disco respirava Con quelle in più era troppo forse E con solo uno in meno Mi sembrava un po' indietro Quindi così è il numero perfetto Sì ci abbiamo provato in tutti i modi Anche perché comunque Anche la case discografica Non voleva il doppio assolutamente Quindi ci ha chiesto di fare una scaletta In modo che stesse tutto in un CD Però dopo tanto lavoro in studio Dopo aver lavorato tanto su ogni pezzo E averli messi insieme Averli ascoltati per tanto tempo Tutti insieme Ogni canzone era veramente necessaria All'interno di questo disco Cioè era tutto wow per noi Era tutto insieme Il titolo è nato da Luca Tantissimo tempo fa Verso l'inizio proprio del disco Non si sa come Deve aver letto questo wow da qualche parte Non so se sono un fumetto O da qualche luogo strano E è arrivato in studio da noi A proporlo E ci è piaciuto subito Perché era comunque Tutto quello che volevamo in quel momento Era un po' un titolo anti-Requiem Che era quindi la giusta conseguenza Po' Requiem È giusto wow Aveva tre lettere È un palindromo Giusto? Sì Più che altro si sposa bene col disco Cioè rende un'idea più chiara Più chiara Secondo me Alla musica Grazie Buonasera a tutti Questa canzone sia Mi metto al piano ultimamente E inizio a Cantare un po' a caso Quello che mi esce Non mi piace mai niente all'inizio di quello che faccio Quindi continuo a riprovare Non lo so È un po' strano ogni Un po' duro a spiegare come si scrive un testo Cioè almeno come lo scrivo io Hai abbassato il piano scusa per caso No Ok Ci vuole un po' di tempo prima che mi abituo alla canzone Sì anche perché comunque lui scrive Quando scrivemo i pezzi Il testo in italiano arriva solo alla fine Noi scriviamo comunque Una sorta di inglese Comunque lui definisce la linea vocale Che è la cosa Tra le più importanti Però questa linea melodica Lui non la canta subito in italiano La canta prima una sorta di inglese E quindi magari dopo lavoriamo su un pezzo Per anche tanti giorni Ci abituiamo a certe sonorità Proprio anche nel testo Che lì ci siano determinati suoni Piuttosto che altri E quindi quando lui si trova a fare il testo in italiano Cerca di inseguire questa caratteristica In senso mettere in quel punto La O In quel punto la A La R Sì è un po' come giocare all'enigmistica O fare un po' matematico Come tipo di scrittura Quasi scientifico in certi punti Cioè molto È molto basato sul suono La situazione Ma al contempo deve dare un colore positivo O perlomeno deve far sembrare più bello il pezzo Se non ce la fa ovviamente il pezzo va scartato Secondo me l'unica cosa che può aver influenzato veramente il disco È stato l'ascolto di Brian Wilson Per quanto riguarda l'impostazione proprio vocale Quel modo di fare certi cori Ma anche negli arrangiamenti fondamentalmente Però sicuramente Cioè i Rated per dire Sì li abbiamo ascoltati Ma non li sento come influenza Sì sono stati un ascolto in questo disco Magari più sullo scorso Sullo scorso disco forse Per tutti gli altri direi praticamente Ma non su questo Sicuramente i Beach Boys Sono stati Anima Lattina di Lucio Battisti Sì sono stati pochissimi dischi che abbiamo ascoltato quest'anno I Glizzi Beer Ma già avevamo scritto tutto il disco Quando abbiamo sentito i Glizzi Beer Poi McCartney, tutti i solisti Sì abbiamo ascoltato molta musica Quindi abbiamo cercato perlomeno anche di fare qualcosa di diverso Abbiamo cercato di fare quello che vogliamo più o meno ascoltare La crisi è innegabile che ci sia Però è anche vero che Noi abbiamo fatto un po' l'eccezione Perché ad esempio il nostro disco è uscito E' stato comprato in massa E non avevano buttato fuori nemmeno abbastanza copy Infatti per quasi due settimane Cioè nelle ultime due settimane è stato introvabile in quasi tutta Italia Questo per farti capire Non so se siamo stati sottovalutati noi O più che noi il pubblico O sopravvalutata la crisi economica forse Non so Però anche il fatto che ci sia tanta gente ai concerti Sia noi Comunque ci impegniamo a tenere un prezzo molto basso Imposto ai locali Che di 10 euro In modo proprio di dare la possibilità a chiunque Forse anche per questo motivo Cioè per 10 euro Te la rischi di andare a vedere un concerto Anche che magari non è il tuo gruppo preferito Però la curiosità Al fine Se ci penso Se devo scegliere Comunque sono soldi che vanno via Due birre Quindi vai a vederti un concerto in Verdena Abbiamo dei problemi un po' psicologici Prima di essere sul palco Ma poi sbanisce il tutto quando attacchiamo a suonare Per te Sì lei va avanti anche mentre si suona Almeno fino a metà concerto Poi dipende ovviamente da data a data No però il prima La parte pesante di un concerto Aspettare di salire Vorresti salire già alle 8 Invece devi aspettare fino alle 10 Sì sì Quando inizia a salirti E devi stare aspettare È un'agonia Non riesce a mangiare Non riesce a far niente Non riesce a parlare neanche con Sì direi che è l'adrenalina che gira a manetta Nel corpo È comunque una cosa bella e positiva Alla fine si sente liberatissimo Lui è una fonte inesauribile di cover Ma nei momenti magari in cui succede qualche problema tecnico Cover Cover Magari sì esatto Però non sono cose organizzate Nel senso Anche perché a malapena abbiamo fatto in tempo A prepararci i giusti pezzi vecchi Anche per l'inizio del tour Perché comunque gli ultimi due mesi e mezzo Li abbiamo passati in sala prove Con una nuova persona che è Omid Che viene in tour con noi A fare tastiere, chitarre e voci Ovviamente per lui doveva impararsi tutti i pezzi da zero E quindi abbiamo provato quasi solo wow Per buona parte Poi abbiamo iniziato anche a riprovarne ai pezzi vecchi Però ce ne sono ancora molti che dobbiamo riprovare Per rifare dal vivo A Bergamo siamo tutti molto bravi I gruppi sono molto migliorati Anche a livello di idee mi sembra più interessante quello che propongono E suonano tutti veramente bene A Bergamo Poi in giro No, no, no E stiamo tornando adesso on the road diciamo Quindi adesso veniamo magari a conoscenza di quello che c'è un po' in giro Negli ultimi tre anni siamo rimasti in studio O se uscivamo vedevamo appunto gruppi di suonare Ma di Bergamo Però effettivamente Cioè la scena bergamasca ad esempio Dà ottime speranze Perché comunque ci sono ottimi gruppi Molto diversi anche uno dall'altro Cioè non è più Magari non so Negli anni 90 tutti facevano Un certo tipo di rock Invece se devo pensare a tre gruppi di Bergamo Che di nostri amici Fanno tre generi totalmente diversi Sì Sempre nell'ambito rock ovviamente Sì Un saluto a TVN da Roberta E Alberto Verdena